Buongiorno e benvenuto al Sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, buongiorno Sindaco. Buongiorno a voi, ben ritrovato, lo ritroviamo in una fase abbastanza calda, 48 ore circa dall'azzeramento della Giunta, saranno molte le domande che vorremmo fare in questo momento, speriamo che sia venuto anche predisposto a cercare di ragionare su queste cose, di solito negli ultimi avvenimenti ha preferito riflettere e non rilasciare tante dichiarazioni sul caso, però direi prima di cominciare anche di dare spazio agli messaggi e sms che sono già tanti, direi alla regia di mandare in onda il servizio del direttore Walter Cori che fa un attimo e punto su questa ennesima puntata della crisi amministrativa al Comune di Teramo. Gianni Chiodi, Paolo Gatti, Paolo Tancredi, tutti di un'area politica del centro-destra di squisizioni facili a parte. Oggi tutti lontani da Maurizio e Brucchi nella realtà, lontani dal loro sindaco che scelsero e che supportarono sia nella prima che nella seconda elezione. Quando era facile supportare un uomo che con una sinistra dormiente non poteva che essere vincente, meriti dello stesso ex assessore della Giunta Chiodi, Brucchi appunto, a parte. Oggi i chiodi, i gatti e i tancredi appaiono tutti semplici spettatori non paganti e Maurizio Brucchi un uomo solo al comando. Gianni Chiodi, al contrario degli altri, prova anche a non dire e ci riesce, infatti non dice. Sta zitto, che è un atteggiamento tipico di chi o pensa, se parlo e dico la mia combino un macello, oppure io lasciai Teramo con la certezza che sarei stato di sicuro eletto in un primo momento consigliere regionale e poi di sicuro governatore. Quindi, per Chiodi, in pratica, Teramo finì lì, andava messa alle spalle. E la waterloo della sconfitta con D'Alfonso in fondo, un posto negli scranni della regione senza responsabilità, glielo ha anche conservato. Lasciò Teramo allora, ma creò figure politiche importanti. Il tanto decantato modello Teramo, a posteriori un flop, fu esportato in blocco e si corazzò politicamente, mettendo dentro anche assessori che erano neppure nell'elenco dei candidati. Oggi, quegli uomini sono alle spalle dei politici del centro-destra di Teramo. Non tutti, quasi tutti. Ma sono proprio i quasi tutti che mancano e che a Maurizio Brucchi hanno voltato le spalle, non pugnalandolo, ma lasciandolo solo al suo destino, vada come vada. In fondo, c'è chi guarda al futuro e a Roma, in attesa di sapere quanto conveniente sarà candidarsi alla Camera, anziché al Senato o viceversa. Insomma, la vecchia politica, quella che non è mai cambiata, quella che oggi presenta un tasso di classe decisamente inferiore a quella di ieri. Le lauree, talvolta, servono a nulla, se il meno titolato conosce le virtù che un gruppo qualsiasi, non soltanto politico, dovrebbe sempre preservare. Sempre. Beh, quasi tutti, quasi tutti, della vecchia politica, del vecchio modello Teramo, un uomo solo a comando, Brucchi, ma si sente un uomo solo a comando in Cimacoppi o nella volata del Giro d'Italia per la Maglia Rosa? No, ma io non mi sento un uomo solo. Ora, la lettura del direttore è una lettura rispettabile che magari può ovviamente, come dire, essere condivisa da alcuni. Io credo che invece con Paolo Gatti e Paolo Tancredi il rapporto continua, un rapporto per quanto mi riguarda di stima e di fiducia reciproca, con Gianni Chiodi, ci siamo sentiti poco in quest'ultimo frangente, in quest'ultimo periodo, però comunque quando io l'ho chiamato è stato sempre pronto e disponibile. Poi altro discorso è sul modello Teramo, che sono d'accordo, non esiste più. Cioè questa è la lettura giusta, non esiste più perché non esiste più quegli stimoli, quella voglia di stare insieme, quella voglia di condividere i percorsi che aveva fatto diventare questa città, questa classe politica, una classe politica forte che poi aveva vinto un po' dovunque. Non ci dimentichiamo che c'è stato in un periodo in cui questa classe politica aveva il comune di Teramo, la provincia di Teramo e la regione Abruzzo e forse lì non siamo stati poi tanto capaci tutti di mettere a frutto questa occasione unica, irripetibile, che c'è stata, perché secondo me poi si sarebbe potuto fare molto di più. Però questo sicuramente, questo modello Teramo non c'è più. Tanto è vero che oggi troviamo che alcuni rappresentanti che facevano parte di quel modello che oggi sono fuori dalla Giunta per motivi, ripeto, che ancora io faccio fatica a capire, però poi questo non è, è nelle cose anche della politica. Sarà, tra l'altro probabilmente la sua curiosità sarà soddisfatta perché dovrà incontrarli, lei ha invitato non soltanto i gruppi di maggioranza, ma anche quelli che della maggioranza non fanno più parte nelle prossime 48 ore per cercare di tracciare un po' la quadra di questa nuova situazione, di questo nuovo passaggio del suo governo. Io, diciamo, continuo, io credo di aver fatto tutto quello che era nelle mie corde per poter mantenere a galla questa barca. Lo faccio da tre anni perché, diciamo, diciamo, diciamo la tutta, noi sono tre anni che combattiamo più su problemi interni alla maggioranza stessa che su altre situazioni eppure in tutte queste difficoltà abbiamo portato avanti e raggiunti tanti obiettivi che adesso, diciamo, non vorrei elencare ma che sono sotto gli occhi di tutti. Però, insomma, poi è chiaro che criticare è facile, dare una lettura oggettiva di quello che questa amministrazione è stata capace di fare è altra cosa, però io mi sono dimesso per cercare di dare una scossa alla situazione. Sono rientrato al diciannovesimo giorno, sia perché c'era un fatto emergenziale, ma comunque era già nelle premesse che io sarei rientrato, nel senso che i colloqui avuti lasciavano qualche spiraglio, quindi era giusto che in qualche modo avessi la possibilità, prima di chiudere definitivamente la porta, di far sì che ci si potesse riconfrontare e trovare una soluzione. Poi adesso ha zerato la giunta, ho fatto in più di un'occasione un mia colpa, io l'ho fatto, io ho detto che ho sbagliato, ho commesso errori di valutazione politica, di valutazione anche, diciamo, nell'ambito di quelle che erano delle scelte, però se riduciamo tutto, e quindi diciamo ho fatto tutto quello che potevo fare, io davvero non ho più carte da giocare, se non quella di, come dire, dare l'ultima, l'out-out a questa maggioranza e dire bene, adesso si fa così, oppure davvero andiamo tutti a casa, l'unica carta che mi rimane è di giocare questa, ma spero di non essere, come dire, di non doverci arrivare, perché spero che invece, diciamo, a questo mio ulteriore segnale, che è un segnale di apertura soprattutto verso quelle forze che sono uscite, diciamo, qualche tempo fa, per motivi, ripeto, che adesso non mi importa stare a riprendere, anche se, ripeto, non li ho mai compresi, ma probabilmente per colper una mia, diciamo, chiamiamola miopia, però soprattutto a queste forze, perché era stato chiesto a più riprese di fare un, diciamo così, un'autocritica, e io credo di averla fatta, anzi credo di essere stato uno dei pochi ad aver fatto autocritica, però l'ho fatta, ho ammesso pubblicamente di aver commesso degli errori, degli errori di valutazione nella scelta di alcune deleghe, di alcuni rappresentanti nell'ambito della Giunta, nella, diciamo, scelta di, in altri, in altri momenti topici della vita di un'amministrazione, e poi ho azzerato anche la Giunta, quindi ho cercato di rimettere per almeno ben due volte la palla al centro. Ora io spero che questo, poter rimettere la palla al centro, possa avere un, come dire, un seguito, cioè che davvero possiamo giocare tutti una stessa partita, se così non sarà, davvero non avrò nulla da rimproverarmi. Sindaco, lei più volte ha fatto riferimento alla situazione emergenziale che sta vivendo Teramo dopo quello che è successo, a partire dall'agosto scorso, a livello di calamità naturali e di cosa hanno subito i cittadini e il territorio, e allora ci verrebbe da chiedere ma come mai questo azzeramento di Giunta è arrivato dopo la sua decisione di ritirare le dimissioni? Non poteva farlo prima? Che cosa è cambiato, tra l'altro, dopo il ritiro delle dimissioni? E' un colloquio con le forze di maggioranza che sembrava avesse risolto il problema, anche rispetto alla posizione dei dissidenti? Guardi, l'agzeramento di Giunta è un atto molto forte. Insomma, stiamo parlando di nuove persone che comunque sono state sempre da questa parte politica, hanno condiviso con te un percorso, alcuni anche un percorso che parte da lontano. e dire adesso vai a casa e non sapendo se poi tornerai a ricoprire questo ruolo di assessore e di fatto uscendo fuori da quella che è la vita politica cittadina, almeno per il momento, è un atto fortissimo che non dobbiamo, diciamo, come dire, sminuire. E a quest'atto forte ci si doveva arrivare e ci si è arrivati soltanto nel momento in cui di fatto questa crisi non sembra, come dire, non sembra decollare. Vede, se io mi devo trovare in una situazione come quella che stiamo vivendo, dove davvero sono tirato per la giacca da una parte e dall'altra e non riesco, non si riesce a fare quello che i cittadini ci chiedono, ma allora davvero non vale la pena di restare, non vale davvero la pena di restare perché non riusciremo a fare il bene della città. E quindi allora io credo, diciamo, la sorta, credo di averlo fatto anche l'altra sera una sorta di appello. Cerchiamo tutti davvero di capire il momento che stiamo vivendo e di trovare una soluzione, perché una soluzione c'è. E' chiaro che se ognuno resta sulle proprie posizioni, allora sicuramente la soluzione non si trova. Io tante volte ho dovuto, per il bene comune in tutti questi anni, ben 17 da amministratore di questa città, 17, forse tanti, forse troppi, io dico ben da 17 anni tante volte ho dovuto fare un passo indietro, ingoiare i rospi, dire di aver sbagliato, ma questo credo che faccia parte di un atteggiamento positivo di un amministratore. C'è quello di ammettere che qualche volta si è fatto una valutazione sbagliata, ma se non fosse così saremmo, ci riterremmo degli infallibili, evidentemente infallibili non siamo. Come facciamo a spiegare anche ai cittadini, come fa lei a spiegare ai cittadini che in definitiva sentono parlare sempre più spesso di numeri, i numeri di questo esecutivo, 9, 6, 7, 5, non si sa, 3. Ma questo è un grave errore ed è un grande errore, cioè se noi non rimettiamo al centro la città, i suoi temi, i suoi problemi, le sue soluzioni, diciamo, quello che vogliamo che almeno questa città, che questa amministrazione riesca in questi ultimi due anni a cercare di programmare, di portare avanti, c'è un terremoto da gestire, una ricostruzione da fare. Se non mettiamo al centro questi temi e stiamo sempre a parlare, giunta 6, giunta 7, giunta 8, giunta 4,5, cioè davvero i cittadini poi non ci capiscono e ci dicono che siamo attaccati alle poltrone? Cioè davvero? Io credo che questo sia l'ultimo aspetto da valutare, da considerare. Lei ha detto però che ha la possibilità, ovviamente sempre l'è badito, di scegliere, perché sceglie lei, sindaco, piuttosto che andare a casa, un atto di forza e dimostrare di poter mettere su un, chiamiamolo così, un governo di salute pubblica. Ma vede, in politica non si può non tenere conto di tutte quelle che sono le anime e le rappresentanze di una maggioranza. No, è impossibile. Magari può arrivare il momento in cui bisogna farlo. Però è normale che in questi anni io ho ascoltato, e non sono pentito di questo, tutte quelle che erano le forze politiche che animavano il centro-destra. Ma era giusto così. Fa parte di chi in qualche modo poi è il punto di riferimento in questo caso di un'amministrazione, ma di qualsiasi altra. È normale, a qualsiasi livello. Ma perché adesso il presidente Di Sabatino non sta ascoltando tutte le sue anime all'interno per decidere se deve mantenere o meno il vicepresidente Nunez o magari sostituirlo con... parlo di un fatto che è all'ordine del giorno. O anche quando c'è una crisi di governo nazionale. Non si sentono tutte le forze. Ma sarebbe impossibile non far questo, no? Anche perché ci sono forze che hanno preso percentuali importanti al voto, che hanno fatto delle liste, che hanno candidato delle persone. Ma quando la quadra non si raggiunge? Ma quando la quadra non si raggiunge, allora a quel punto, ripeto, l'ho detto prima, non vorrei essere costretto a dover arrivare ad un out-out per cui o così o tutti a casa. E poi ognuno si assume le proprie responsabilità. Ma io questo l'ho detto anche l'altro giorno, nella riunione. Ho detto, guardate, se adesso non c'è la volontà almeno di fare un passo uno verso l'altro, cioè se ognuno resta sul proprio fortino e lì arroccato, non andiamo a nessuna parte. E tra l'altro non facciamo il bene dell'amministrazione, perché poi ognuno... Perché adesso questo è un passaggio, no? Ma il consiglio di martedì si dovrà fare, comunque vadano le cose, perché c'è un provvedimento importante che coinvolge anche un altro comune, il comune di Montorio, su un finanziamento di un europeo importante, no? Quindi comunque vadano le cose, il consiglio almeno per quel punto si dovrà svolgere. Ma ci sono temi importanti. Io penso che in questi giorni ci sta discutendo sulla scelta dell'ospedale unico. Ma davvero vogliamo lasciare queste scelte ad altri? Questa classe politica vuole derogare una scelta così importante ad altri? Non lo so, comunque. Una delle richieste, per passare ai messaggi dei telespettatori, che sono già diversi. Tutti si chiedono, a livello nazionale, lei ha citato anche questo passaggio, il governo si decide se probabilmente si ritornerà il voto in autunno. Questo che influenza potrà avere sull'amministrazione comunale di Teramo? Lei si candiderà? Guardi, io sto pensando e penso al comune di Teramo. Altrimenti non starei qui a fare tutto quello che sto facendo, non starei qui ad azzerare la giunta, non starei qui a dimettermi, non sarei rientrato dalle dimissioni. Voglio dire, insomma, ora cerchiamo di essere coerenti. È chiaro che una elezione sconvolge a tutti i livelli un panorama politico. Quando c'è un'elezione, a qualsiasi livello, quando ci sono le regionali, ci sono consiglieri che si vogliono candidare, assessori, sindaci che si vogliono candidare. C'è tutto, a qualsiasi elezione c'è questo sconvolgimento. Ma in questo momento io sto lavorando per Teramo e continuo a lavorare per Teramo. Allora, dalla regia Cristian De Luca, se possiamo cominciare a leggere i messaggi dei nostri telespettatori rivolti al sindaco, noi siamo qui per provare a rispondere. Ma l'acqua si può bere, sì o no? Poveri noi. Questo è un argomento che... Si può bere, l'acqua si può bere. Ripeto, si sta portando avanti un sistema di controllo delle acque e che credo che a brevissimo ci sarà questo nuovo sistema di controllo. Però bisogna mettere in sicurezza sia l'autostrada che i laboratori dell'INFN, in maniera rapida e veloce. Sono molto preoccupato, non per il fatto che l'acqua si possa bere o meno, l'acqua si può bere. Io sono molto preoccupato se al 31-12-2017 i dirigenti della regione Abruzzo metteranno la firma sotto quell'atto che scadrà al 31-12 e che dovrà essere rinnovato per la captazione dell'acqua del Gran Sasso. Quello è il grande problema, quello è il grande tema. L'acqua si può bere molto tranquillamente. Io la bevo, i miei figli la bevono, mio figlio Filippo di Cianni la beve, mia figlia Anicoletta la beve, mia moglie la beve. Il vicepresidente Lolli proprio l'altro giorno a questo emittente ha detto, appunto ha confermato, che la proroga alla concessione del Ruzzo ci sarà nelle more del bando ovviamente, che dovrà essere preparato. Perché Teramo non può perdere, non può correre. E questo ci tranquillizza. Andiamo avanti con i messaggi. Ce ne sono ancora. Scusa Sindaco, penso che basti a tirare la corda alla città e allo stremo. Se non siete più in grado di governare, molto seriamente, dite basta. Sì, ma guardi, il telespettatore, io l'ho detto, cioè, però davvero non è che voglio dire che non dite, diciamo, io ho fatto tutto quello che era nelle mie corde. Posso fare ancora un'altra cosa. Non si può amministrare la città da solo. In questo momento sono da solo, ma vi dico che è gravoso ed è di grande difficoltà. Perché poi, altrimenti, non si sarebbe stabilito che una città come un comune capologo come Teramo possa avere al massimo nove assessori, no? Avrebbero detto che il sindaco può stare da solo. Quindi c'è bisogno di una giunta, c'è bisogno di persone che seguano in maniera seria, dedicate al lavoro, con tanto lavoro, una città. anche perché adesso, diciamo, che ci sono da fare gli straordinari, perché c'è già da gestire una situazione post-sisma molto gravosa. E già si sta facendo tardi anche su questo. Andiamo avanti con i messaggi. Buongiorno, Giardino Pannella sempre chiuso. Perché non dotarlo di giochi per bimbi e portare un po' di vita in quell'angolo verde? Grazie, stava parlando ovviamente di una struttura annessa alla sede della provincia. Ma bisognerebbe dirlo alla provincia, ma me ne farò carico. E' inutile aver intitolato i giardini a Marco Pannella se poi sono sempre chiusi. Ora, io su questo, devo dire, non ci ho fatto caso. Però se così è, sicuramente bisogna fare in modo che i giardini restano aperti. Leggiamo ancora. Ma ci rendiamo conto, caro sindaco, che in Via Vinci Guerra il traffico ci sta uccidendo? Un traffico bestiale? Ci stiamo organizzando per bloccare tutto. Nessuno interviene per studiare un percorso diverso. Siamo stufi, è un problema annoso. Sì, io lo conosco, è un problema annoso. C'è anche il carico dei lavori, della deviazione per il carico dei lavori del corso. Sì, è un problema annoso e non è un problema di facile soluzione trovare un'alternativa per questa strada, insomma. È chiaro che io credo di aver lavorato molto in questi otto anni per cercare di far comprendere che almeno in centro storico della macchina si può fare a meno. Però è un discorso di mentalità che abbiamo, dico che abbiamo tutti, e che dovremmo cercare un po' di modificare. Leggiamo ancora. Buongiorno sindaco, le domande sulla retrocessione delle aree edificabili, che fine hanno fatto? Tanta gente insieme a me aspetta ancora che i terreni tornino agricoli. Intanto, anche quest'anno, per l'ennesima volta, ci paghiamo, Rimu. Grazie, buona giornata. Allora, è finita la fase della valutazione delle domande. È chiaro che deve andare in consiglio comunale, così come ci deve andare il piano urbano del traffico, il piano della sostenibilità, così come ci devono andare tanti provvedimenti. Un consiglio comunale formato da una maggioranza di almeno 17 consiglieri che vogliono i provvedimenti. È chiaro che se ci muoviamo, ce la possiamo fare per dicembre. Ce la possiamo fare per dicembre se ci muoviamo. Nota che in un campione di messaggi che sono arrivati dai nostri tre spettatori nessuno ha fatto accenno alla crisi raggiunta, ai numeri, assessori e cose. Quanto le ritiene che questa polemica, tra l'altro, diventa risibile agli occhi del cittadino. Ma certo che sì. Ma i problemi che ha il cittadino sono questi. I problemi dei cittadini sono questi. Sono le aree edificabili, via Vinci Guerra. Questi sono i problemi che i cittadini vogliono. I cittadini vogliono pagare meno tasse. I cittadini non vogliono più parare per aree edificabili che il piano regolatore gli ha dato e che loro non volevano. I cittadini vogliono che si risolvano i problemi, vogliono rientrare nelle proprie case, soprattutto quelle bilegeri. I cittadini non importa se la giunta è formata di tre, di quattro. Interessa soltanto a una stretta ricerca di persone e da chi intorno a questo cerca di costruirci qualcosa. Ma non importa niente. Tant'è vero, la testimonianza è quello che diceva lei, che non c'è stato nessun messaggio. Sulla vicenda della ricostruzione e del rientro nelle abitazioni, intanto leggiamo quest'altro messaggio. Buongiorno, il nostro carissimo ed un unico sindaco Brucchi, da Frank Rosalba. Buongiorno, Frank Rosalba, grazie. Il rientro delle abitazioni, dicevamo, molto importante e molto sentito. Tra l'altro il fatto che questa ricostruzione non parta in maniera decisa come avrebbe già dovuto fare. sottolinea anche la posizione degli inquilini del later. Ovviamente non di competenza strettamente e direttamente del sindaco, ma è un problema sul quale anche gli inquilini protestano da tempo. Io devo dire che la macchina adesso si è messa in moto con le scuole. Abbiamo visto approvato questo primo grande progetto nostro, che è il progetto del polo scolastico all'extadio, con questo bando delle periferie. Quindi diciamo che è partito. Non è partita ancora la ricostruzione privata. La ricostruzione privata, che dovrà essere fatta dal comune, quindi sarà il comune che si dovrà dotare di personale. Ci hanno autorizzato all'assunzione di quattro persone attraverso diverse procedure. Noi attingeremo dalla graduatoria nazionale per il terremoto in modo da fare più velocemente. E questo ci permetterà di iniziare la ricostruzione privata e soprattutto di risolvere il problema delle B leggerissimo. Però fino ad oggi non siamo stati messi nelle condizioni. Ma non voglio fare polemica né con la regione Abruzzo e non voglio fare neanche polemica con il direttore d'Alberto, perché poi le polemiche in questa zona non portano a niente, creano solo problemi. Quindi però da stimolo sicuramente sì, perché bisogna partire. Adesso noi attiveremo subito la procedura per queste quattro persone che ci sono state autorizzate dalla regione e con queste quattro persone costituiremo finalmente l'ufficio Sisma, perché adesso l'abbiamo costituito con il nostro personale, che allo stremo, anzi è l'occasione per ringraziare tutto il personale del comune di Teramo, che ha lavorato davvero con grande dedizione senza stare a guardare ai sabati, alle domeniche, al giorno, alla notte e fare i complimenti anche all'assessore Fracassa che ha seguito questa fase di emergenza. Dicevo, siamo arrivati a concludere oltre 5.000 richieste di verifiche. Siamo il primo comune che ha chiuso già le verifiche delle case dichiarate danneggiate. Tanti altri comuni hanno ancora tante e tante verifiche da fare, comuni grandi come noi. E questo è un risultato perché abbiamo davvero lavorato incessantemente e il nostro personale, soprattutto quello tecnico, e non solo. Non hanno guardato se era sabato o domenica, se erano le 2, se erano le 6, se erano le 7. e davvero è stato fatto un grande lavoro. Sindaco, chiusura, so che non la posso impegnare sulle date perché tra l'altro lei non è molto fortunato con queste, però riusciremo a vedere... No, le sbaglio sempre. Appunto, allora riusciremo a vedere la fine di questi lavori del corso. Allora, sui lavori del corso io voglio dire una cosa. Oggi un'opera pubblica si porta a compimento con grande difficoltà. perché purtroppo le imprese vivono un momento di difficoltà, sia quelle più piccole sia quelle più grandi. È chiaro che qui, diciamo, qualche pasticcio è stato fatto, soprattutto su quello che è stato un po' il recupero, l'approvvigionamento del materiale. Non c'è dubbo. Un materiale che, insomma, mi lascia un po', vedremo la fine, aspetto la fine, voglio vedere la fine, quando sarà completato, però su questo poi magari un confronto con chi lo ha scelto lo attiverò. Quello che stiamo vedendo sta facendo, insomma, non è che depone in maniera molto positiva. No, diciamo, il pavimentare non è una brutta pavimentazione, poi, insomma, c'è un discorso, un concorso di idee. Il materiale mi sembra un po' poroso, però io non sono... Già danneggiato in alcuni ponti... Però oggi, però guardavo anche ieri, facevo caso anche ieri che il porfido di Piazza Martiri è ugualmente danneggiato e unto, perché poi se tu su una mattonella ci butti, diciamo, no, un qualsiasi sostanza, un po' si macchia. Adesso l'impresa, dietro una mia spinta, ha preso un altro passo. È vero che abbiamo chiuso una parte, adesso più importante di corso, però è dettata, A, da motivi di sicurezza, B, dal fatto che se dobbiamo accelerare, dobbiamo accelerare. Per accelerare dobbiamo dare una parte più grande di cantiere, perché fino ad oggi abbiamo sempre chiesto all'impresa prendi una parte piccola di cantiere, prendi una parte piccola di cantiere, è chiaro che se prendi una parte piccola... Adesso ci sono sette, otto operai al lavoro, mi sembra che, diciamo, io non sono andato... La mattina mi affaccio e guardo e cerco di capire a che punto stanno. Mi sembra che hanno preso una buona... una buona, diciamo... Un buon passo. Un buon passo. Come dire, vanno controllati quotidianamente per fare questo. Però guardi, io ho fatto assieme a lavori pubblici in un momento in cui i soldi c'erano, non c'era la crisi ed era un'altra cosa. Io ho gestito la pavimentazione di Piazza Sant'Agostino e delle vie di Mintrofe con molti meno problemi. Oggi purtroppo i problemi ci sono, le banche non danno più aiuto alle imprese, le imprese fanno fatica, le opere pubbliche sono sempre meno, anzi noi forse siamo un po' un'eccezione, no? E quindi i lavori del corso finiranno, io spero che per l'estate, per la fine dell'estate, riusciamo a finire la pavimentazione in modo poi da fermarci un momento e riflettere su cosa fare, perché io ho grossi timori sulla parte vecchia del corso. Grossi timori. E quindi io credo che bisognerà fermarsi un momento, fare il punto della situazione, verificare se è opportuno fare tutte le piccole bretelline al di qua, al di là del corso, perché altrimenti mi sembra di capire che qualche problema lì tecnico c'è, e poi eventualmente aggredire la seconda parte del corso e vedere anche come. Probabilmente questo è necessario, questo pit stop sarà necessario di riflessione e di scelta poi futura, ovviamente insieme al direttore del lavoro, insieme al progettista, insieme alla sovraintendenza, però insomma ecco, abbiamo davvero tanta carne a fuoco, abbiamo i 16 milioni di euro del bando delle periferie, abbiamo i 5 milioni di euro per FERS, abbiamo i quasi un milione di euro per la nuova stazione degli autobus, abbiamo l'arretramento della stazione. Riusciremo a vedere anche le verifiche sismiche? Sì, le verifiche sismiche sono pronte, una parte sono già rientrate, è chiaro che c'è stato, si è creato un po' un imbuto, perché noi siamo partiti con le verifiche sismiche tutte insieme e purtroppo quando si va a fare la prova dei materiali è stata dettata dai tempi della scuola perché non li potevi fare durante la scuola per forare una colonne in cemento armato e quindi si sono dovute fare a scuola chiusa e poi si è creato l'imbuto insieme alla provincia perché tutti siamo andati nei vari laboratori che fanno questi esami che non sono tantissimi e quindi si è creato un imbuto, però adesso da questo imbuto stiamo uscendo, alcune sono già rientrate, altre stanno rientrando, io ritengo che per il mese di giugno le avremo tutte, però il problema non è questo, il problema è che per adesso non ci sono risorse per la messa in sicurezza, per l'adeguamento sismico, non ci sono risorse, c'è stato detto dal direttore d'Alberto e anche a me me l'ha detto anche Errani a Roma quando sono stato la settimana scorsa per presentare il progetto del polo scolastico, che ci sarà un piano pluriennale di investimenti, quindi a settembre non ci saranno grossissime novità per quanto riguarda le nostre scuole, vedremo le verifiche che cosa ci diranno e poi eventualmente si faranno delle scelte, l'obiettivo è sempre quello di garantire la sicurezza dei nostri figli. Passerà questi risultati a fine giugno? Assolutamente, ma guardi che siamo gli unici siamo gli unici tra i vari comuni che hanno fatto le verifiche che hanno messo le proprie verifiche sul sito e che le hanno messe a disposizione. Tanti altri comuni, non faccio nome, hanno detto che le verifiche ce le avevano ma se poi vai sul sito le verifiche non le trovi. Sindaco, se hai fatto tardi leggiamo l'ultimo messaggio per lasciarci. Buongiorno Sindaco, aveva promesso i parcheggi per i residenti in Via Largo Melatini già da oltre un anno. Quando si faranno? È vero, è vero. Io di questa cosa un po' mi chiedo scusa ai cittadini terramani perché poi impegnato nel risolvere tutte queste beghe politiche ovviamente ricerchi di risolvere le beghe politiche e non risolvi le beghe amministrative o meno le risolvi ma in maniera più lenta ma è ovvio. Però è un progetto che vogliamo portare avanti abbiamo fatto due quartieri ne restano altri due il progetto è pronto bisogna solo attuarlo e attivarlo. Allora Sindaco, lasciamo le consultazioni per la nuova giunta per far ripartire la macchina amministrativa sotto aspetto anche politico non tanto che amministrativo con una giunta esecutiva la ringrazio per la risposta dei nostri telespettatori grazie anche a voi appuntamento alle 14 alle 19 con le due edizioni del nostro Tg nel frattempo la mattinata prosegue con i programmi Super J state con noi che c'è divertimento arrivederci e grazie a tutti i programmi a tutti i programmi e grazie a tutti i programmi